Ciao a tutti ragazzi sono Dan e benvenuti nella 72esima puntata Oggi siamo qui per fare la trebbiatura un po' così del campo 16 Trebbiatura un po' così nel senso che è un po' da togliersi il campo 16 tra virgolette Perché dà un pochino fastidio quindi direi che il cosplay non lo usiamo Perché abbiamo già visto che fa danni Ci andiamo giù noi col man che in teoria è quello che porta di più che abbiamo Anche in pratica Sì Andiamo di prendere una scorciatoia Se riusciamo Sì Ma io non ti avevo detto di non farla l'andana Vabbè Ma ha fatto l'andana Fa niente Uh no scorso episodio ci siamo dimenticati la crona Beh la sistemiamo adesso Un attimino Allora la crona va messa qua Ok Allora devo mettere Già tirarla su sarebbe un buon lavoro Questa direi che posso mettermela qua contro No aspetta Terzo lento che c'ha sta colonna Ok qua così E poi me la metto qui così la trincia Mamma mia per ottimizzare gli spazi cosa devo Devo Cosa mi tocca fare Ok Cosa abbiamo il nostro man che è sporco come tutto Perfetto Iiii Perfetto Frena Allora qua in te c'è uno scalino Sì Vediamo un pochettino Così così Più o meno Così 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 boh Mi sa che ci lascia tipo un pezzettino minuscolo Eh da quanto Posso indovinare però Con le stime approssimative Guardate qui La cr Mamma mia ha fatto un ingrandimento sulla faccia Guardate che faccia che ha Allora dovresti essere quasi vuota Sempre il litro che ci toglie Intanto possiamo prendere Ok Sono un po' indeciso su cosa usare Ma si togliamo il magnum Ce l'abbiamo Lo usiamo Cavolo ho già fatto 4,6 ore Ne abbiamo comprato 2-3 puntate fa E ci andiamo a raccogliere tutta la paglia che c'è Al campo 16 che sta lasciando giù la nostra Eh nuova Holland Anche chiamata New Holland Ci starà tutto Boh Non lo so minimamente Non mi intendo scoprirlo Sperando di non aver messo il camion in mezzo ai piedi Ma spero di no La 3 vi apre il tubo Non ci scarica niente dentro Perché il tempo che scarica è già Va bene abbiamo toccato un pochino il camion Che ora magari ci dà problemi per l'altra corsia Vediamo No 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 Che sterzo lungo Più che altro che c'è un carro dietro Si è fermata la trebbia Allora mi fermo anch'io E vado sul manto Si bravo Mamma mia quanto odio i mezzi Come scivolano qua Adesso io a dire la verità Non mi ricordo neanche più com'era il 13 Ve lo dico proprio la verità verità Ma sicuramente così tanto non lo era Io mi ricordo che facevi le curve Faceva No che partiva Abbiamo spinto un attimino a CR Intanto puoi andare Anche se non ti scarichi tutta Che ti scarichi un po' anche mentre vai Non muore nessuno Allora breve Bisogna fare nuovi acquisti Bisogna comprare la La case Se no va a finire che la compriamo Alla fine della serie Non la usiamo niente Vorrei usarla ancora Almeno un po' Poi verrà fatta Trebiatura di massa Due campi assieme Bello 22 27 O 22 15 No che poi col 22 27 si incastrano Beh dire il vero Con lo stesso punto di scarico Anche col 15 si incastrerebbero Ok siamo al 63% Quindi direi che Tutto non ci potrà mai stare In un solo carro Qui è andato avanti No Tanto Abbiamo 14.936.149 euro Quindi direi che Un milione E duecentomila Mi pare Adesso lì Andiamo a spendere Subito subito Poi mi preoccupo di comprare la case Perché mi manca ancora Un paio di cosette da comprare Allora fermiamoci qui Andiamo sul man E compriamo P Oggetti posizionabili Una palla eolica Convertitore di energia eolica Ora questo qui Non lo metto vicino a nessun posto Che noi conosciamo Perché fa un casino Indescrivibile Quindi lo metterei anche vicino al mare Diro il vero Tipo Beh no Qua no Qua nemmeno Che Mi rovina il paesaggio Dove lo si può mettere? Dicevo qua Che c'è un bello spiazzo Ma c'è il campo Quassù Quassù non penso Che dia poi tanto fastidio No però questo campo Lo andiamo a comprare Qua c'è il 38 Qui Dai treni Non siamo a confine Con la mappa No Ok C'è qualcosa vicino? Non so Devo trovare un posto Che mi ispiri Prima di metterla Se no poi non va bene Tanto lì vediamo Eh potrei metterla qua nel bosco Che ho disbuscato Ma allora la metterai in futuro Questo campo lo devo comprare Poi Qui anche Qui Direi che la mettiamo tutta a nord Qui siamo Ok La mettiamo dalla segheria Più o meno Come si può mettere qui Eh allora Dov'è che me la fai mettere? Eh no però dai Voglio metterla una paleolica io L'unico posto che mi sono deciso a metterla Come ce la fai mettere? Qua Mi ha deciso Anche se non mi ispira tanto Aspetta però fammi vedere Verso che Io vorrei proprio Che si veda bene In mezzo a un brick Eh sì Ma la girata a lui Vabbè La vediamo di qua In teoria sì Eccola la 1.200.000 euro Via Va bene E ne abbiamo ancora 13.000.000 euro E poi abbiamo Tanto silato da svuotare Che ce le rifacciamo in un attimo Una bennata Più o meno Quanto ho visto vale 12.000 Poi una balla Aspetta Una balla anche Mi sembra che valga Sui 12.000 Quindi Cioè Balle di Fieno fermentate Cavolo Se valgono Valgono a peso d'oro Se fosse così Nella realtà Saremo tutti ricchi Ma che cosi Ma Io non me l'ho accorto mai Di sta roba Guardate lì Che texture Che ci hanno messo Hanno avuto anche il coraggio Di dire che hanno migliorato Le texture Del Dentro al veicolo Lì Tra i due specchietti E che io Non lo sto giocando In low Very low Quello che è Io sto giocando In very high Con tutti i filtri Al massimo Cioè Ma scherziamo Questo è già fatto meglio Direi che intanto Ce ne andiamo a scaricare In questa maniera Che Ne devo approfittare adesso Prima della nuova stagione Se no Non potrò più farlo Di usarla Questa mod Poi ditemi anche un po' voi Se vi piacerebbe Vederla Per Per magari velocizzare un pochettino Noi puntate O non vederla Per fare più reale Ancora Ditemi un po' voi A me va bene Tutte e due E la CR è ancora là Quindi Poi c'è il camion Che quando dai sotto Fa staccavolo di Dare il colpo Che quando sei con la legna Proprio Non va per niente bene Che ti fa saltare via tutto Un disastro Un disastro Ora aprirà Il tubo Ovviamente Eh appunto Dicevo No strano Siamo anche pieni di paglia Paglia Se non vederne Un mucchi 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 Anzi No Ho schiacciato F10 Ho iniziato a registrare Con Fraps Perfetto Sì perché Non registro Con Fraps Adesso Accendiamo i rappeggianti Almeno siamo anche in regola Qua me la fa svuotare Non so se mi Qua mi fa svuotare Solo le balle Occhio e croce Penso che potrei svuotare Anche questo Anche se sembra più Un Bale Destroyer Ma appunto Ci fa svuotare anche questo Vediamo quanto ci paga A me sembra che paghi più Qua che A casa Vediamo un po' Tanto più o meno Adesso può essere che Passa l'ora E aumentano un pochettino I prezzi Ma Non di tanto Qui sembra che mi dia Tanto di più Dir la verità Vediamo quanto ci ha dato Comunque molto utile 6630 Molto utile Che hanno messo Da un update Questo qui Che ti fa Potevi far 3 metri in più No Che hanno messo Questo qui Che ti dice Quanto ti danno Almeno Ci evitiamo Di calcoli Calcolosi E Calcolatici Che Per calcolare Si danno più qua Più là Che dovevi vedere O segnarti i soldi E poi farti il conto Oppure Nelle entrate da raccolto Lì Là Ci vorrebbe Sapete cosa ci vorrebbe Un tipo cronologia Che ti dice Non so se avete presente Su Gta5 C'è Che è sulla banca Vi dice Come avete speso i soldi Magari anche solo scrivendo Cioè Nuovi acquisti Non cosa hai comprato O magari scrivendo Vendita Non vendita Frumento Orzo Ci scrive solo Vendita cereali Oppure vendita paglia Vendita balle In generale Vendita silato Questa quella roba lì Ok Qua se ne fa un sacco di paglia Non so se La density Comprende anche la paglia Frena Eh Non ci sono Non ce l'ho fatto Frena Intanto lì chiude Il tubo Che questo qui Della Cr È più corto Quello della Della case È una bestia Proprio A me continua a venire Il dubbio Se ho fertilizzato O no Questo campo Sembra di sì Da quanto se ne fa Però non ne sono ben sicuro Molto sicuro Non ben sicuro Cosa vuol dire ben sicuro Frena Non ho fatto niente Se volevo suonare il classio Non sono sceso Qua quando si gioca Troppi giochi Come vi ho già detto Si vanno a fare gli sti errori Tanto qui c'è sempre La La Come si chiama Il parasole Lidlman Che Sfarfalla un po' Sempre fatto C'è lo scania Quello che Davvero bello Quello che c'ho Per la legna Solo che Non mi piace molto Molto come Come fatto Poi non si teletrasporta Soprattutto per la marmita È brutto Che non si teletrasporta Allora Sono le 10.01 E sono le 15 più o meno Eh sì le 15 Le 17 Già Nella realtà Ma Non mi sembra di andarti Così tanto sotto Anche perché poi Non è che ci sia tanto spazio Da starci Eh se vuoi scaricare Più o meno a metà carro Devi stare così Invece la case Ha un bel tubo lungo Cavolo Poi mi sa che devo Metterla in pausa Cioè devo Rimetterla qui poi Sperando che ci lasci Un angolino Ce lo lascio un angolino Guarda te Mal educato No proprio Proprio no Ce l'ho lasciato Due ciuffettini lì Eh dai Un po' di strada Se lo potrebbe fare No Sicuramente no Sì ma mi sembra Che si sia concimato Adesso sempre Con questo dubbio Rimarrò Ok Potevo lasciarmelo giù A dire il vero Vabbè Qui non sto a fare Su questa paglietta Questa qui Magari si Cioè paglietta Questo formento E' talmente Sì E' concimato Confermato Confermato Perfetto Qui abbiamo tagliato l'erba L'ultima volta Con la crona Taglia erba Proprio Da spendacioni Vi immaginate Tagliare l'erba Del prato Con quella crona O con un Qualsiasi trincia Barra da triticale Che poi C'è anche La class Mi sembra Che con l'orbis Puoi fare Puoi tagliare l'erba Triticale Non lo so Ma l'erba Mi sembra Che la taglia C'è tipo Anche l'oxerion Che c'ha Il saddle track Mi pare Che ha una specie Di macchinario Strano Per trinciare L'erba In qualche modo Tipo usarlo Come trincia L'oxerion Con un suo Diciamo un po' Container Che c'ha sopra Suo cassone Ok Sperando di riuscire A fare un 100% Guarda te Devevo proprio Lasciarlo qui Il man Ora qui La New Holland Cade Finchè Morte Non la separi Dite che se io Prendo Il man Lo metto Con la gps Con la following Mod Alla trebia Se la teletrasporto Alla trebia Che cosa Dite che fa C'è il man Se la trasporto Alla trebia Ma No mi sa che comunque Qua non se ne fa Comunque mi ricordo Come andavano Sui soldi Quindi 50% Si potrebbe fare Una stima Se riuscissimo Arrivare Più o meno Al 75% Si solo ricordo Dovrei andarmi A rivedere il video Non mi ricordo Sui 6630 Mi pare Che fosse Io lo confermo A voi Oh ma ce la faccio Sti c'è il tasto giusto Dai 6630 In questo modo Dovrebbe darci Sui 6630 Diviso 2 Fa 3330 3330 No 3315 3315 Oddio Che calcolo sto facendo Non lo so 6630 Diviso 4 Per 3 6630 Diviso 4 Per 3 Dovrebbe darci Sui 4972 4900 Facciamo questo 4900 4008 Perché Non è proprio 75 No ma mi sa che ci da tanto uguale Perché anche qui vanno su molto veloci i soldi Mi sa che ci da tanto uguale 2009 94 Calcolate che potrebbe essere stato abbassato il prezzo Boh Oh cos'è Dinamix mod trailer di universo Non ciò Tu Non ciò Cos'è No raccoglitrice C'è Ciò già Non ho quello ma Ci assomiglia Quindi Galline Perfetto ragazzi Anche questo video sicuramente l'ho fatto di 10 anni Per cui Non so Vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare un bel like E iscrivervi se ancora non lo avete fatto Da Dan è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti